Punizioni nell'al di qua Punizioni nell'al di là Oriente-Occidente La questione è complicata Io devo stringere i tempi Devo stringere i tempi Ci sarebbe tempo e spazio Per una lezione magistrale di alcune ore Ma ormai per me, che ho quasi 80 anni Sono passati quei tempi In cui facevo del lezione magistrale Di un'ora, un'ora e mezza, due ore Mi devo limitare a poco Allora, vediamo quali sono Punizioni nell'al di qua Punizioni nell'al di là Occidente Occidente Punizioni nell'al di là Oriente Punizioni nell'al di qua Ma che cosa vuol dire? In breve, in breve Occidente Cristianesimo Dante Rigieri Inferno, Purgatorio e Paradiso Al di là Al di là Ok, Occidente Cristianesimo Dante Rigieri Divina Commedia Inferno, Purgatorio e Paradiso Al di là Oriente Induismo Non è sicuramente utili Devono venire puniti E sono stati inventati Delle punizioni In occidente Con il cristianesimo Abbiamo la punizione Eterna Nell'al di là Per chi si comporta male C'è l'inferno In mezzo al fuoco Per l'eternità In Oriente Per chi si comporta male E' stata inventata La punizione Nell'al di qua Col karma Perché chi si comporta male Nell'al di qua Poi quando rinasce Nasce in una vita Miserabile Una vita tormentata Capito? Cari amici E' tanto bella Per esempio E' bella sia La punizione Nell'al di là Di cui ha parlato Dante Rigieri Nell'inferno Della Divina Commedia E' bella tanto anche La punizione Nell'al di qua Dell'induismo Dell'induismo Col karma La questione del karma Ti tiene bloccate Le caste Le caste in India Le tiene bloccate Adesso sono Un po' meno bloccate Per via Della occidentalizzazione Però ci sono sempre Le caste Capito? E col karma L'ordinamento castale Ti viene bloccato Ti viene bloccato Perché Nessuno vuole Rinascere In una condizione Peggiore Peggiore Di quella Attuale Devono tutti Ricare dritto La stessa cosa E' In grosso modo In occidente Con la punizione Nell'aldilà Inferno In mezzo al fuoco Per l'eternità Ecco cari amici Ripeto Io qua mi fermo Cari amici Però sappiate Che io ovviamente Ovviamente mi chiamo Serafino In mezzo al fuoco In mezzo al fuoco Per l'eternità Papa Francesco È il nostro papa Il nostro papa Attuale Papa Francesco Che è un papa Gesuita E vi ho spiegato Che i gesuiti Hanno una marcia in più Papa Francesco Dice che Nell'inferno Ci sta soltanto Il diavolo Solo Solo Satana Ci sta nell'inferno Capito Perché Dio Dio Non ci punisce Siamo tutti figli suoi Capito Va bene Cari amici A tutti Tanti cari saluti Da Serafino Massoni